ah gottard è qua vabbè ma che cazzo ah gottard ah gottard eh ma se ne puoi evocare uno soltanto poi che coglioni vabbè proviamo a di 2x ah eccolo qua 2x abbiamo già ucciso è stato un combattimento molto tosto spirito oscuro esiliato spirito di 2x è morto vabbè e la cosa ci ha dato qualche vantaggio no direi di no vabbè entriamo e proviamo non è che è uscito eh ma mi sa che sono tutti del gioco tra l'altro non vorrei dire una cretinata ma secondo me sono tutti legati al al gioco però questo è veramente tosto cioè nel senso apparentemente no però no no cosa cazzo è ma non ci ha fatto niente è buggato via 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 no aspetta aspetta un secondo ok adesso c'è una parte piuttosto tosta vabbè però me la dovevo rischiare poi se il nostro vabbè che cazzo eh vabbè fighe dovevo ricaricare un po' la magia anch'io non è che posso andare avanti solo così allora non mi piace da vederlo ma mi mette troppa ansia a giocarlo non riesco non so come spiegarlo mi mette più ansia di un horror qualsiasi grande Claudio eh si hai ragione è difficile spiegarlo in un modo diverso però è così è proprio un po' così è un po' il gioco fatto in questo modo allora adesso noi facciamo in questo modo qua scendiamo vediamo se c'è qualcosa no ma qua non è che c'è qualcosa vediamo parete illusore qualcosa e qua nemmeno non devo evitare di fare tutto sto giro no eh molliamo giù l'affare qua in modo tale da essere evocati qui eccolo qua 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 è stato evocato in un altro mondo no in modo tale che appena essere evocati appena dopo il cancello ci permette di sapere già che chi vuole affrontare il boss ci chiama e non chi vuole che ci rompiamo un po' tutti le palle appena lì quindi c'è Gotthard e il nostro amico è questo va bene dovrò puoi unirti ci siamo uniti manca Gotthard ma va bene ah già che io qua c'ho sempre quattro c'ho sempre soltanto quattro fiasche bella storia molto bene molto bene muy bien adesso via tutti eccoci qua tutte le volte becchiamo il danno lo stesso però qui andrebbe colpito il più possibile anche il fantasma ma perché è il fantasma fa comunque la sua sporca figura ui 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 adesso da un po' mi trovo in mezzo anzi mi sono già trovato in mezzo quella cazzo via 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 mamma con le fiamme ormai ovunque vabbè è finita è finita è finita è finita è finita ggg per tutti e noi torniamo al nostro mondo altra brace altro medaglione così ci ribecchiamo la vita e proviamo a vedere se c'è qualcuno invece che allora ad essere evocati ci mettiamo due minuti però non c'è nessuno da evocare questo sarebbe piaciuto mettiamola così però adesso con due che sono qui buono e oppa vediamo se troviamo anime pie in giro qua questo è è ancora questo gottard vedete quanti sono che è rado di sicken tocca van dike questo retons ma questo sembra un giocatore questo è impossibile sille impossibile questo è impossibile ma sono tutti impossibili da evocare che cazzo andiamo a vedere se ne troviamo un po' in giro magari sono tipo vicino al falò questo boss in solitaria è un casino a vederlo così io sbaglio è bello tosto è bello tosto tra l'altro in realtà in solitaria la prima volta le prime volte sono sempre più facili gli avevo tolto tantissima vita ma veramente tantissima e poi in realtà mi ha ammazzato brutalmente qua per evocare qualcuno in negativo e quindi era finita davvero male ma non capisco perché non vedo io giocatori cioè è strano perché se io piazzo il mio segno di evocazione vengo evocato in un minuto neanche il che significa che ce ne sono davvero tanti che stanno giocando ah ecco qua per esempio gin impossibile 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 gottard è l'unico è l'unico che può essere evocato nome rip impossibile ma perché sono tutti impossibili ma forse perché vengono richiamati sono richiamati vediamo mitis ah sì vedete sono forse continuamente richiamati forse per questo che ha questa logica qua vediamo fantasma di mitis eccoci qua e cominciamo mitilis scusa e cominciamo la nostra battaglia tanto andiamo recuperarci le anime che vabbè non è che però vediamo se la squadra sembrava una squadra vincente sono entrato col salto una roba proprio non è sanissima da fare certo perché consuma via 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 buona 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 troia merda troia vacca No No ragazzi miei No No miti lì scazza Recuperati la vita Non farmi cose cattive Ragazzi Che cognizione Che cognizione Via Figa Ciao Salutiamo Colpo finale Boss Eccoli qua Sul Sul Vian Gran sacerdote Salutiamo Salutiamo tutti 50.000 Buono Tra l'altro qua C'è anche Il Pait Ciao caro Appena salutato Nella Tra l'altro Devono esserci Milioni di giocatori Che ci stanno giocando Perché adesso guardate